Prosegue il nostro percorso tra gli stand dei costruttori, siamo in quello di Renault Trucks Italia, ci sono molte novità alle nostre spalle, al mio fianco abbiamo Marco Bonaveglio, sei il direttore commerciale del brand in Italia, cosa ci presenti, cosa ha presentato Renault qua al Transpotec? Un caro saluto a tutti, siamo qua sullo stand Renault Trucks Italia al Transpotec, dietro di noi abbiamo in anteprima italiana, finalmente arrivato fresco fresco, il T in versione full electric per il trasporto regionale, è un veicolo, un trattore elettrico con 6 pacchi batterie da 90 kWh ognuno per un totale di 540 kW, con autonomia fino a 300 km, veramente ideale per il trasporto regionale a zero emissioni. Questa però non è l'unica novità, abbiamo passeggiato letteralmente dentro lo stand e ne abbiamo visto anche delle altre. Esatto, bravissimo, su questo stand abbiamo tantissime novità, quindi oltre al T elettrico abbiamo alla mia destra quindi il master nuovissimo in versione elettrica, arriverà in Italia dall'estate, questa versione elettrica fino a 87 kWh di batteria, con un'automia fino a 400 km, un veicolo rivisto esteriormente e interiormente, andate a vederlo, oltre a questo in anteprima italiana, finalmente il nuovo D e D wide con una calandra completamente rivista, nuovi specchietti, nuovi fari per essere più in linea e omogenea con gli altri veicoli in gamma e oltre a questo passiamo poi sulla gamma completamente diesel, perché siamo l'unico costruttore a oggi avere una gamma completamente elettrica e completamente diesel, abbiamo la versione del Trafic a partire dal piccolino in versione completamente GSR, fino al T 2024, andate a vederlo perché dentro è una rivoluzione, un veicolo completamente rivisto, fino al K allestito, anche questo un veicolo rivisto sia esteriormente che interiormente. Grazie